Il Tribunale di Parma ha inflitto due mesi a una maestra che ha richiamato i suoi alunni. Li ha richiamati piuttosto bruscamente. Cosa avevano fatto questi bambini? Erano andati nei bagni e con le mani avevano imbrattato di feci tutti i bagni. La bidella poveretta che si è trovata a pulire questo sgorbio si è lamentata pesantemente e la maestra come fa una brava mamma li ha pesantemente richiamati e rimproverati. Ma subito sapete che sono intervenuti i genitori i quali cosa hanno fatto? Hanno denunciato la maestra e la maestra viene portata in Tribunale. Il Pubblico Ministero dice, signore giudici, ma guardate che a questa maestra andrebbe data una medaglia. Il giudice le dà invece due mesi di reclusione che poi sappiamo non li farà, non finirà neanche nel casello giudiziale della signora, però sono moralmente una sberla violenta nella faccia di un'educatrice che ha avuto il coraggio di fare il proprio dovere. Vorrei concludere con tre piccole sottolineature. La prima, il Ministro della Pubblica Istruzione, perché non è intervenuto a difesa di questa insegnante? Secondo, i magistrati che hanno condannato questa donna, nonostante il Pubblico Ministero ne avesse chiesto la soluzione, ma perché hanno deciso che andava punita una donna che ha fatto il suo dovere di educatrice? Terzo, ma più grave, e i genitori che hanno denunciato la maestra perché ha richiamato i figli? Che genitori sono? Continuiamo a lamentarci che ci sono le baby gang, che ci sono degli adolescenti in condizione di fallimento, che ci sono delle generazioni senza ossatura, ma amici cari, qui ad essere cretini, sono solo gli adulti. Grazie. Grazie. Grazie.